Il progetto Japan Tobacco International Clean Way 2018, un viaggio all'insegna della sostenibilità ambientale promosso da FE Italia e da Japan Tobacco International con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha fatto tappa a Castellabate, comune che ha conquistato la bandiera blu sin dal 1999. Un vero e proprio eco-tour a bordo dell'auto ecologica di Japan Tobacco International Clean Way che si è ricaricata proprio a Castellabate alla colonnina posta in Piazza Lucia a Santa Maria e sta raggiungendo ben 13 località cilentane certificate bandiera blu o spighe verdi per intervistare i sindaci sulle azioni green portate avanti dalle comunità locali per promuovere comportamenti responsabili nel rispetto dell'ambiente. Siamo molto contenti e chiaramente anche orgogliosi di questo riconoscimento che indirettamente ancora una volta premia Castellabate questo tour nelle località bandiera blu e poi soprattutto l'attenzione rivolta a una tematica importante come la mobilità sostenibile. Abbiamo puntato molto su questo tema che si concilia benissimo con quelli che sono i temi della FEE, quindi un elemento ulteriore di valutazione ai fini dell'attribuzione della bandiera blu e quindi anche da questo punto di vista l'importanza di una mobilità sostenibile in un paese bandiera blu, soprattutto in un paese con forte vocazione turistica come Castellabate e quindi l'importanza che ha due fattori fondamentali, uno della tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio, quindi bassa emissione ambientale, quindi diciamo la tutela ambientale dal punto di vista dell'inquinamento e allo stesso tempo il valore diciamo di flussi turistici che può rappresentare la mobilità sostenibile in quanto oltre le grandi città alle città d'arti dove è già presente questa tecnologia, quindi diciamo le infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche, ma ci sono flussi di turisti importanti, è provato statisticamente, che possono raggiungere le mete cosiddette minori, quindi le località turistiche e noi per il via di questa infrastruttura, grazie ad Enel X che abbiamo realizzato nel nostro territorio, insomma miniamo a catturare anche questo tipo di flusso. Quindi sulla mobilità c'è una doppia valenza, che è quella ambientale, sulla sostenibilità ambientale appunto l'inquinamento atmosferico, quindi l'abbattimento dell'inquinamento spuntando sulla mobilità elettrica, quindi alternativa e allo stesso momento una grande vocazione turistica, quindi una spinta ulteriore alla vocazione turistica di questo territorio. Sindaco, quante colonnine sono installate nel comune di Castellabate e se in futuro ce ne saranno altre? Attualmente ce ne sono tre di Enel X, più abbiamo una colonnina in Villa Matarazzo di convergenze, altre sono previste perché un'altra sarà installata anche a San Marco e quindi abbiamo altre colonnine elettriche in programma, quindi penso che da questo punto di vista, oltre ad essere il primo comune nel Parco Nazionale del Cilento ad aver installato questa tecnologia, abbiamo anche una copertura importante, che poi è quello che dicevo prima, mette in rete, mette Castellabate in un circuito importante che si basa appunto su questa mobilità e consente di essere presenti in una rete che riguarda tutto il territorio nazionale, per cui un turista che ha da Roma sarà in grado di verificare la possibilità di fare la ricarica della propria auto elettrica arrivando a Castellabate, addirittura prenotando la propria ricarica.